Quando mi è stata comunicata questa iniziativa, quindi la realizzazione di questo libro bianco, e sono stata nominata come coordinatore scientifico di questo libro, inizialmente l'ho visto come un semplice progetto di editing, diciamo così. Non ne avevo colto appieno l'importanza e la rilevanza. Soffermandomi un attimo ho riflettuto sul fatto che era la prima occasione per la nostra azienda di produrre un volume rappresentativo di tutto il lavoro fatto negli ultimi anni e quindi che fosse una fotografia del lavoro quotidiano mio, dei progettisti e di tutte le persone che ci hanno lavorato al BIM fino ad oggi. In prima battuta si era pensato di demandare solo al management, quindi ai direttori delle diverse direzioni, la redazione di articoli. Poi ho pensato se è una fotografia del lavoro fatto fino ad oggi voglio il coinvolgimento di tutti gli operativi e quindi di tutti i progettisti che sono i primi che si sono cimentati in questa tecnologia, che si sono adoperati affinché accanto al lavoro quotidiano e quindi alle fatiche per le progettazioni, le consegne, le tempistiche da rispettare nella chiusura di una serie di progetti verso i nostri clienti, hanno dovuto cimentarsi con estrema passione e con estremo interesse ed entusiasmo all'applicazione di questa metodologia che prima di tutto vede una trasformazione dell'ingegneria e della progettazione. E quindi abbiamo coinvolto tutti i progettisti che ad oggi hanno lavorato fin a partire dal 2013 con i primi progetti, fino agli ultimi progetti, quelli appena sviluppati su cui sono stati sviluppati dei modelli BIM e devo dire che l'entusiasmo è stato fin da subito percepito. Con Valentino avevamo redatto una tabella di marcia molto stringente, l'idea è nata a novembre ma di fatto abbiamo cominciato a lavorarci a gennaio, a inizi anno, per avere appunto la prima stesura del libro a giugno. Ci è sembrato un traguardo veramente sfidante e temevamo delle dilatazioni di tempi nel riuscire a recuperare tutte le bozze di articoli a carico sia degli interni che degli esterni. Invece i progettisti ci hanno seguito fin da subito e sono stati i primi a consegnarci i loro articoli, ma nell'arco di una quindicina di giorni. Questo a riprova del fatto che l'hanno vissuta come un'opportunità e un'occasione di esprimere il lavoro fatto. Questo libro si cale in un momento societario in cui abbiamo superato la fase della semplice applicazione del BIM all'ingegneria, ma è già da un paio d'anni che ci stiamo ponendo il problema di integrare tutte le altre realtà aziendali, di percepire e analizzare come il BIM, che non è un cambiamento solo di strumenti, ma è un cambiamento di mente, di approccio, di metodo, come il BIM si sposa e viene, diciamo, recepito nelle altre direzioni aziendali. Quella più vicino a noi è la direzione delle commesse captive, quindi parliamo dei colleghi che fanno supervisione, direzione e lavori. Le direzioni apparentemente più lontani, quindi parlo delle risorse umane, piuttosto che approvvigionamenti, piuttosto che programmazione e controllo, sono le altre direzioni che in una maniera più o meno impattante stanno avendo comunque delle rigatute sul modo di lavorare. E questo libro fotografa un po' l'adozione del BIM in azienda sotto tutti questi punti di vista. In questo libro sono rappresentate le professionalità della nostra azienda che prima di essere esperti BIM sono esperti di ferrovia. In tutti gli ambiti coloro che hanno dato il maggior contributo allo sviluppo di questo progetto e quindi al BIM in azienda sono le persone che conoscono la materia, che hanno anni di esperienza alle spalle in ambito ferroviario, sia nell'ambito della progettazione che piuttosto che in altri ambiti. Ma io stessa vengo dal mondo della progettazione, sono passata e tuttora sviluppo progetti coordinandoli da un punto di vista di sistema, di project engineer, competenze senza le quali il mio percorso di BIM management non sarebbe stato possibile. Mi rendo conto che il nostro successo è stato il frutto di due fattori fondamentali, di un commitment che ha creduto in questo progetto, che ci ha creduto anche quando in questo progetto ci credevano in pochi e contemporaneamente è frutto dell'entusiasmo e della passione, della motivazione di chi giorno per giorno lavora e vede nell'innovazione, nel BIM e quindi nella possibilità di cambiamento un efficientamento, una forma di efficientamento per fare meglio.